io scendo qui e ci sono 3 coggi vicini qua c'è le tre robe vicine e un po' più di loot hai visto se c'era qualcuno si c'è gente di più con me porco di due mi rovina? sto scappando dove? non ho sparato ma che c'è da me arrivo arrivo dove? giù uno giù guarda scudo evo scudo evo a livello 2 dove? dove? ma perché? ah è morto è morto è fatica l'ho fatto in tempo a guardare faccio un scudo evo scudo evo ma non lo voglio faccio uno scudo il 2 se volete buon non c'è più il team siamo quello che vogliamo adesso ho scannato scannato scannata qualcuno ha scannato porco due infatti mi ha bruciato capito dove sono è bruciato non ho si non ho due due serini però a farlo guarda che sono qui porco di è non è possibile non ho niente qua è ci sono le fatti qua sopra dove è? chinga è qua sotto arrivo 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 all'unque Яiste è uscitaottle dalla casa I chi l'altro no è in casa o 這個 è posso comunque l'attacco sono quanti team ci sono? quando ti butti subito tempo